Sabato è successo un atto squadristico fascista che ha assaltato la sede della CGL. In questo modo questo è stato non un assalto al sindacato o a un sindacato, quello è stato un assalto a tutto il mondo del lavoro, a tutto il sindacato italiano. Tra l'altro cent'anni fa il fascismo proprio nel nostro paese iniziò incendiando e svaliggiando e sfassiando le camere del lavoro, i luoghi di lavoro e allo stesso tempo credo che sia una ferita alla democrazia, creda che sia un'offesa alla Costituzione che è nata dalla resistenza e credo che sia stato un modo per quasi violentare i diritti e il mondo del lavoro. Quindi c'è bisogno di reagire. Per questo poche ore dopo che abbiamo imparato questa cosa che è successa, insieme a Cisle Will, tutto il sindacato confederale italiano, abbiamo immediatamente proclamato una grande manifestazione per sabato, 16, a Roma, perché di fronte a questi atti bisogna far prevalere la democrazia e la democrazia si difende con la partecipazione e con il coinvolgimento delle persone. Perché definisci?